E nel frattempo chiamo il tifo numero 11. Ok, allora vediamo un po' come si comporta questo ponte e quanto lo penalizzerà il fatto di non essere perfettamente allineato sul piano verticale. Siamo a zero. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2. 17, 2 sta recuperando, ha ceduto ma sta recuperando. Siamo a 17, 9, 18, 19, 4, 20, 20 e 8, 21 e 1, 21 e 1, 21 e 1, 21 e 1, 21 e 2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.